Ciao, come ti chiami? Riccardo De Toma, di nuovo. L'idea? Ah, l'idea, rubricking. E cosa tratta? Tratta l'evoluzione di una rubrica da statica a dinamica, basata sulle relazioni fra utenti che possono modificare in qualsiasi momento il proprio numero di telefono e automaticamente lo vanno ad aggiornare su tutte le rubriche di chi ha l'interno di telefono. Ok, ti ringrazio, ciao. Ciao.